ciao a tutti ragazzi da TFG on demand guarda Rinegan ho chiamato i raps le palle quelle della moda le palle ignoranti le chiamano così le palle ignoranti perché i raps sono delle palle ignoranti le tue palle le mie esatto i raps sono proprio più ignoranti degli altri però qui guardate uccido uno con la granata e poi muovo in maniera bello ho finito quel video ciao a tutti no praticamente sembra che avrete inizi male poi in realtà ho fatto la modalità rage sono entrati in modalità rage ok ho fatto regicuitare gli avversari guarda qui guarda qui eh sto prendendo il punto mi sparano sento che mi sparano no no mi giro guarda vedete i proiettili vedo dei peschi tiro una flashbang vedo che è là dietro poi vedo un altro che salta e lo colpesco e muore e muore vabbè gran cosa eh vabbè è arrivata una grande bravo hai visto la decisione che ho fatto ma potevi lanciarla no ragazzi a parte gli scherzi merito 4.000 5.000 mi piace per questa super partita che ho fatto con il cecchino e aspetta dimmi 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 ma vaffan ragazzi ammettete fa una bella partita cioè e il rispetto anche a come gioco sulla playstation guardate guardate che questo guardate triplo incisione perché ho fatto un colpo e poi un colpo due morti con un colpo un colpo e poi un colpo due morti con un colpo ragazzi veramente e qua muoiono vedete che la sottoscrizione per regalarti un mezzo cervello non è no non è ancora cioè sta è in corso regalare un cervello a Taylor qui guardate allora vi scrivo un attimo ma in maniera ignorante in giro per la mappa senza sparare la gente pensa che sei tu perché tu diventi colorato giallo come i cloni obiettivamente esatto il tuo cuore in giro per la mamma mappa esatto quindi non sai chi sono io e devi sparare un po a caso e nel frattempo tu sei libero di ucciderli però siccome qua ho usato il cecchino ho detto ma per fare un paio di decisioni in più magari uso l'oxyate e ne fatti lo siate lo siate lo sai come cazzo si chiama parlano arabo non si capisce eh sì poi no eh no per i tempi di corona no guarda adesso praticamente qua sono vicino a prendere la come si chiama la nave rite perchè come serie di decisioni in questa partita usavo l'uav la nave giusta la nave rite giusta è giusta e le palle ignoranti ok e come fucile Sì la precisione erano 2-3 partite che stava utilizzando l'SV100 Uccide con un colpo? Sì praticamente dai pantaloni in su Dalla cintola Dalla cintola Cintola che ti rinnega a spiegare cosa è la cintola Perché non lo so Capito dalla cintola in su vuol dire praticamente il bacino Ok in su Perfetto uccide con un colpo E come velocità Ti sarei affatto tre quattro ore di risata Cintola No mi stavo chiedendo che cazzo voleva dire io E hai iniziato a sparare nei piedi nel braccio In testa Qui me la sono campionata un po' perché sapevo che loro arrivavano da quella parte Per prendere il punto B Sono riuscito ad uccidere uno con la pistola e uno col fucile a precisione E qua ho fatto i numeri ragazzi Fucile a precisione Guardate qui vedo due persone Fucile di precisione Di precisione Sì giusto guarda qui Suiscio verso destra Poi suiscio verso sinistra Due uccisioni rapide Adesso muori No 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 muoio Adesso posso chiamare i raps Ma non li chiamo perché Dominio sapete che ci sono due round Ho detto vabbè il primo round Lo stiamo vincendo Non uso niente Appena inizia il secondo round Li butto prima i raps Quando sono finiti i raps Li butto il right Guarda anche quello Qui non mi sono accorto del tipo a destra Naturalmente La cosa più figa di Call of Duty Basta che fai un uccisione di sembra di aver fatto Vendetta Dopo oltre la morte Cazzo grosso Non vorrei dire cazzate Guarda qui Visto che numero Ho tirato la granata giusto giusto Mentre c'era uno Comunque non vuoi dire cazzate Mi pare che ho fatto la partita Il fine settimana E c'erano i punti esperienza doppi Pertanto ho già prestigiato Quindi come al solito La tua vita non esiste Esatto La mia vita non esiste Perché devo Ci sono i piedi doppi Quindi non posso uscire Devo giocare E quindi sono riuscito a fare Ho già fatto la prima modalità prestigio Perché non l'hai sperato? Perché non l'ho visto Anche se era davanti al naso Ti sembrerà strano Ma così è Praticamente qua Ah guarda che bel headshot L'ho fatto Qua vabbè Stavo ricaricando Qui lo guardi L'ho fatto brutto Ma L'hai guardato storto Perché sappiamo Sappiamo Che su quelle cops Se ti sparano Se ti sparano tu puoi guardarli brutto Si Non puoi sparare a loro volta Perché c'è eccesso di difesa Esatto Esatto Qui guardate Inizio il round Uso subito lo shite Per farmi due uccisioni Anche se mi pare che non danno gli stessi punti Oh no Non mi ricordo No 125 punti Dà gli stessi uccisioni Di un'uccisione normale Dà gli stessi uccisioni Gli stessi punti Di un'uccisione normale Scusate Vedete qua Io chiamo prima i raps E come si chiama quella Ah la nave giusta La nave giusta E cosa fa la nave right E' quella tipo un warrior Che sta lì E gira un po' intordo 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 Gira un po' intordo E spara alla genti Alla genti Spara alle genti Alle genti Esatto Dicevamo che fa robe giusto? Fa robe Fa robe Diventa invisibile Ma anche? Che cazzo? Diventa invisibile e fa robe Ma muori in maniera imbarazzante ogni tanto? Oppure no? Ehm...sì Boh Guarda qui guarda qui Guarda qui guarda qui Guarda che numeri Guarda 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 Rage mode Pam Perché sapevo C'è tirata col colpo Col calcio della pistola Dio ma ci tira un calcio? Si perché non ci dicono Ti tira un calcio? Però ho fatto i numeri eh Qua cammino sui muri Vedete qua E adesso muore Spatam Guarda qui Rage mode Arriva un altro Quick Scoop anche a questo Non si passa con Taylor Non si passa Eh no eh Taylor dice no Al passaggio Aspetta qua vedo nel radar Che ci sono da quella parte altri nemici Tiro la flashbang E non c'è nessuno Ok Però nel momento in cui arrivo Vedete uso radar Vedo che c'è Quick Scoop E muore In maniera imbarazzante Qua guarda cosa succede? Sto ricaricando E mi arriva un missile in faccia Cioè non sapo Sono incaricato Che mi arrivano addosso Che non è figo Scusa niente Comunque ragazzi Veramente questa polizia da Cicchino Mi piace un sacco Se volete altre partite Aspetta aspetta Sai cosa mi piacciono? Cosa? Sì sarà un futuristica Ma sono fighe È bello Comunque ho fatto un bel 48-20 Se ne volete altri Dicelo nei commenti Ciao a tutti Potrebbe essere Cosa? Che ritornano Eh ma certo che ritornano Potrebbe essere che ritornano E per chi sa Sa Ciao 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 Ciao